Notte di fuoco a Gela con tre auto date alle fiamme da mani ignote. Due delle vetture prese di mira appartengono al primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, già consigliere comunale del PD Gaetano Orlando, di 58 anni. Il fuoco alle due macchine è stato piccato intorno all'1.30. Si tratta di una Fiat Panda e di una Mercedes che erano parcheggiate sotto l'abitazione del primario in via Tina Pica in Contrada, Marchitello. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale di staccamento e la polizia che ha avviato indagini febbrili. Sullo grave episodio il PD di Gela e l'Unione Provinciale hanno manifestato condanna esprimendo vicinanza a Gaetano Orlando e alla sua famiglia. L'altro incendio è significato in via Giulio a Sitacusa al villaggio Aldisio. Intorno alle due è stata incendiata una Fiat Stilo in stato di abbandono appartenente ad un pensionato di 79 anni. Indagano i carabinieri. E i militari dell'arma della stazione di Riesi, in collaborazione con quelli di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere un disoccupato palmese di 57 anni. L'accusa è di atti persecutori ai danni della sua ex convivente. La vicenda ha avuto inizio nel settembre dell'anno scorso. Dopo la separazione, l'uomo ha iniziato a tempestare lo suo ex di chiamate e messaggi che si erano resi tanto insopportabili da convincere la donna esasperata a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Riesi. I militari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno avviato riservate puntuali indagini che hanno permesso di sottoporre l'uomo ad una misura cautelare che lo stesso tuttavia non ha rispettato. L'attenta vigilanza dei carabinieri alla rispetto della misura e le reiterate denunce della donna, sempre più atterrita dalle minacce continue dell'uomo, hanno condotto l'autorità giudiziaria ad emettere un provvedimento restrittivo che è stato eseguito dai carabinieri. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Caltanissetta.